L'ambiente è la nostra casa e abbiamo l'obbligo di mantenerlo in salute, ma per fare questo, come ci spiega il preside della Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società dell'Università Corea di Enna, Aurelio Angelini, è necessario insegnare alle giovani generazioni il rispetto per il mondo che ci ospita, formando i giovani a saper comunicare bene questo concetto. Ormai da alcuni decenni c'è un tentativo di riformare l'ordinamento formativo del nostro paese al fine di avere da parte dei giovani e quindi delle nuove generazioni una cresciuta consapevolezza dell'ambiente nel quale viviamo. Non solo perché vivere nelle città per tanto tempo genera un disaccoppiamento tra l'uomo e la natura e sembriamo degli estranei noi umani rispetto ai sistemi naturali e quindi è necessario sviluppare un'educazione ambientale, un riportare dentro la natura le nuove generazioni, ma se vogliamo portare avanti una iniziativa costante e perenne per stili di vita appropriati e adeguati alle sfide del nostro tempo che ci richiedono di dover essere consapevoli rispetto a ciò che noi beviamo, ciò che mangiamo, rispetto allo stato fisico e quindi della nostra attività quotidiana, dobbiamo far diventare l'educazione ambientale uno degli asset cruciali di una buona politica sanitaria perché l'obiettivo credo anche di questa iniziativa è quella di fare in modo che anziché prenderci cura, ma dobbiamo prenderci cura di chi si prova a pagare le conseguenze del modello economico che sappiamo benissimo che deve essere modificato, cambiato, richiederà del tempo, ma la stessa Unione Europea nel parlare di riconversione ecologica dell'economia ce lo ha sottolineato dando un target, dando degli obiettivi. Se da una parte dobbiamo lavorare per ridurre sempre di più le fonti di inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo, dall'altra parte dobbiamo formare i cittadini a essere cittadini che attraverso le proprie scelte, scelte consapevoli, scelte di consumo appropriate, individuali ma anche in ambito familiare, possono avere quel supporto nel sistema formativo che sia all'altezza di questa sfida, che è una strida enorme. Poi c'è un altro aspetto che riguarda le università. Le università oggi sono del tutto disallineate come ordinamento universitario dei corsi di laurea. La maggior parte dei corsi di laurea in questi anni nel cercare di adeguarsi alle problematiche ambientali hanno aggiunto nella titolazione puntini e puntine della sostenibilità. Non è sufficiente questo, bisogna formare professionisti, specialisti che lavorino non per intervenire sull'ambiente, ma come integrarsi con l'ambiente. Perché la sfida è questa, noi abbiamo lavorato sull'ambiente attraverso interventi che non hanno valutato gli impatti e le conseguenze che avrebbero generato. Oggi abbiamo bisogno noi di professionisti dalla medicina, quindi dalla medicina di base che dovrebbe diventare la prima frontiera per poter spingere i pazienti nella direzione di stili di vita sani e non di prescrivere una serie di medicinali al fine di ridurre le conseguenze di uno stile di vita sbagliato. Ma abbiamo bisogno anche di avere ingegneri, di avere architecchi, di avere medici che cambiano il paradigma. La sostenibilità non è una nome che si afficcica su un altro nome, è una strategia in cui noi ritorniamo all'interno di quelli che sono i cicli nella natura, non manomettendole, ma ricavando quello che la natura ci può dare in modo sostenibile e quindi dobbiamo tornare a un rapporto conciliato. Tutto il comparto della formazione può dare un grande contributo nell'ambito degli stili di vita, le università devono dare un grande contributo per poter riformare un sistema ancora legato a modelli di sviluppo economico, a modelli produttivi, a tecnologie che sono legate al passato. Oggi ci sono nuove frontiere che bisogna traguardare. Questa è la sfida del nostro tempo, perché non possiamo pensare di guardare al futuro con serenità, senza pagare ulteriori prezzi significativi che stiamo pagando in questo nostro tempo, senza riformare quelle istituzioni che generano professionisti, educatori, cittadini che abbiano quell'apporto indispensabile per poter generare questo cambiamento. Grazie a tutti.